ben trovati a tutti da parte di Marco Fabriani oggi parliamo del Movimento 5 Stelle lo facciamo con un simpatizzante il professor Mario Staibano noto cardiochirurgo per molti anni primario al San Filippo Neri di Roma professore ben trovato nei nostri studi salve lei simpatizzante del Movimento 5 Stelle sin dalla nascita oggi com'è la sua simpatia e stima nei confronti del Movimento 5 Stelle insomma sono cambiate alcune situazioni per esempio alcune vicende alcuni hanno lasciato alcuni oltre 20 hanno lasciato il Movimento sono andati nei gruppi misti altri non ne pagano mensilmente come d'accordi eccetera eccetera è un po' deluso? beh stanno venendo fuori delle cose che uno non si aspettava chiaramente la delusione fa parte di tutte le cose nuove quando poi le esperimenti sul campo sul campo qui significa nella gestione del potere perché è un conto essere all'opposizione è un conto gestire il potere come stanno facendo il problema è che è molto complessa la politica e quindi non è che te la puoi inventare probabilmente sono stati fatti degli errori di partenza come secondo me la scelta dei candidati con la filosofia iniziale che io non ho mai condiviso di uno vale uno hanno preso delle persone secondo me che poi i fatti hanno dimostrato non affidabili non attendibili il problema è che se tu non sei più d'accordo con il movimento che è una cosa legittima è importante che tu possa andartene viene il primo dei non eletti che tu cambi partito e allora lì alcune persone hanno fatto questa figura però questo lo dice la legge no no aspetti qua non facciamo confusione la legge diceva che tu sei libero non hai legami col partito perché hai preso i voti tu ma oggi con queste leggi elettorali i voti non li prendi più tu oggi li prendi il partito la gente ha votato Grillo i simpatizzanti hanno votato per il movimento non per i candidati che erano illustri sconosciuti quindi tu che sei un illustri sconosciuto una volta che sei senatore o deputato non condividi più niente legittimo te ne vai e non che tu cambi partito e finisci in altri partiti addirittura che sono all'opposizione di quello che il movimento sta facendo adesso non è cambiata la Costituzione perché comunque la legge non permette questo cioè il deputato può dimettersi la Costituzione votare poi il Parlamento è vero però è anche vero che hanno cambiato leggi elettorali in continuazione e questo piccolo dettaglio che adesso i voti non li prendi più tu ma non si poteva fare un contratto tra il Movimento 5 Stelle e i candidati hanno fatto un contratto economico secondo me io personalmente non sono d'accordo di una sorta di multa bisognava coinvolgere persone a dire io Tizio e Caio sapendo che sarò eletto con i voti che i cittadini daranno a Grillo e non a me mettendolo proprio scritto mi rendo conto che sono un portavoce del Movimento e se per caso non dovessi condividere alcuni atteggiamenti io mi impegno a lasciare il posto diciamo questo è un 15% degli eletti 15% che per il Movimento è tanto fosse un altro partito sarebbe insignificante perché tutti le direbbero beh l'85 tiene bene ha pagato un danno al Movimento 5 Stelle questo un danno anche di consenso per il futuro gli elettori del 5 Stelle sono elettori molto esigenti perché volevano un cambiamento e quindi hanno votato per questo cambiamento ogni piccolo errore del Movimento 5 Stelle è rimarcato e fatto pagare a caro prezzo cose che in altri partiti non succede niente perché la gente ha un altro modo di approccio nel voto fra chi vota 5 Stelle e chi invece vota gli altri partiti è chiaro che questo è stato un elemento di disturbo notevole e si è già visto si è votato a De Maio a Luigi De Maio che è il capo politico comunque del Movimento 5 Stelle poi di fatto è colui che va avanti non facendo parte attiva del Movimento adesso cominciare a dare voti cose c'era mi dispiace perché poi l'altro dovrebbe stare qui un po' deluso allora ma sono deluso dal fatto che soprattutto all'inizio non poteva prendere due ministeri importanti vice capo politico e vice ministro quello secondo me un ragazzo di 30 anni doveva avere l'accortezza di io faccio una cosa al capo politico le altre tre cose le fanno altre tre persone abbiamo sempre detto che concentrare tutto su una persona sola non è mai bene il primo errore è stato quello soprattutto quando non si ha l'esperienza poi sai quanto ci andava un sessantenne con 40 anni di politica alle spalle un conto che c'era un ragazzo che per la prima volta raggiunge una forma di potere così importante grazie grazie al professor Mario Stebbano lo ricordo cardiochirurgo per molti anni primario all'ospedale romano San Filippo Neri grazie professore per essere stato qui con noi un grazie a voi tutti da Marco Fabriani grazie a tutti grazie a tutti